Quelle che vi proponiamo sono le foto scattate poche ore dietro al campo comunale Ferrarizzi di Sarsale. Il terreno di gioco è completamente invaso dalla neve che cade copiosa nella zona del Catanzarese. La partita prevista domenica prossima alle 14.30 non si gioca, il Gela dunque non partirà alla volta della Calabria. La decisione è stata adottata dalla Federazione. Abbiamo avuto comunicazione una decina di minuti fa direttamente dal Dipartimento Interregionale di Roma e ci hanno comunicato che a causa delle abbondanti nevitate c'è difficoltà ad espletare la gara e pertanto sarà rinviata a mercoledì 25 gennaio. In queste ore, per non perdere confidenza con il calcio giocato, il Gela sta valutando alcune opzioni. Ci prepareremo, continueremo con i nostri allenamenti. Certo, ci dispiace non poter giocare, però ritengo sia giusto così perché andare a giocare in un campo in terra abbattuta e in aggiunta in condizioni non assolutamente idonee è meglio non giocare. Ci prepareremo, programmeremo chiaramente di concerto col preparatore atletico e il mister e programmeremo allenamenti per mantenere la condizione. Il direttore sportivo del club Biancazzurro tiene a sottolineare la tempestività con cui la società del Sersale ha comunicato quanto accade in Calabria permettendo al Gela di organizzarsi. Noi abbiamo il Gela ottimi rapporti con tutte le società, loro si sono premurati di informarci, assolutamente questo ancora di più avvalora la tesi che bisogna avere ottimi rapporti con tutte le consorelle.